Durante questa nuova sfida perché? Perché ho ricevuto un appello da una ampia fetta della classe dirigente del Partito Democratico regionale e dalla segreteria del presidente della regione Lazio Zingaretti per impersonare, e di questo vado fiero, la mozione Zingaretti a livello locale per il congresso regionale del Partito Democratico. L'appello Michele Durante, terzo candidato alle primarie del PD dopo Stefano Buono e Vittorino Facciolla, lo ha ricevuto da Roberto Ruta, Laura Venitelli, gran parte del PD Campobassano e una parte della federazione di Isernia che si è spaccata clamorosamente. L'endorsement di Zingaretti, atteso martedì sera a Isernia, ha fatto la differenza. Non alla testa del PD, era contro di noi pochi mesi fa, le accuse dei competitor Buono e Facciolla. Durante risponde così. Ho presentato la candidatura alle primarie regionale del Partito Democratico secondo il regolamento del Partito Democratico, quindi loro lo conoscono meglio di me e possono fare le verifiche che devono fare. Per quanto riguarda essere candidato alle politiche contro, io non ero candidato contro Facciolla, ero fuori dal PD come lo sono stato fino all'altro ieri, oggi concorro a partecipare alla ricostruzione insieme a tante altre persone di questo partito, ma io ero assolutamente contrario a quelle politiche del Partito Democratico impersonate da Renzi e la sua classe dirigente che hanno allontanato milioni di elettori dal PD e che hanno allontanato il Partito Democratico dalle esigenze dell'agente comune e del popolo italiano. Parla di contenuti, di proposte, di idee che metterà in campo durante la campagna elettorale fino alle primarie del 3 marzo in concomitanza con quelle per l'elezione del segretario nazionale. La parola chiave che caratterizzerà la sua campagna? Noi, noi e non io. Solo attraverso la pluralità si può recuperare quel rapporto che purtroppo è malato. È malato il rapporto dei cittadini con la politica in questo momento, nel momento in cui i segretari di partito che ricoprono anche ruoli di governo importantissimi girano l'Italia a continuare ad alimentare odio. in questo senso il massimo rispetto da parte mia e la massima considerazione, ancora una volta, vanno al presidente Mattarella che l'altra sera in un discorso di grande misura ha definito qual è il senso dell'impegno civile, qual è il senso di un paese che riesce a vivere in una convivenza civile e democratica. Impresa ardua la sua riportare a casa che ha deciso di scappare da un partito di sinistra che faceva cose di destra e in piena crisi di identità. Lo dico anche in termini molto banali, se un partito vuole essere a contatto con tutti e vuole essere inclusivo, come si dice quotidianamente, non può avere una sede al terzo piano di un palazzo senza un ascensore. Dobbiamo stare al piano terra dove tutti quanti possono raggiungerci, dobbiamo andare vicino alle persone che hanno bisogno e ancora bisogna recuperare quel rapporto con le organizzazioni datoriali, con le organizzazioni di sindacato, con i portatori di interessi diffusi che sono stati completamente dimenticati dai partiti, un po' da tutti, nel loro ruolo di intermediazione fra le esigenze del cittadino e l'istituzione.